Ci troviamo all'interno di Pistelli Bartolucci, bottega storica di Ferrara, ovviamente dedita alla musica. Ci troviamo col titolare, il nome? Gadda Riccardo. Gadda Riccardo che però è un titolare recente. Intanto quando si è stata rilevata questa attività? L'attività l'ho rilevata quasi due anni fa, perché durante il lockdown lessi l'articolo che il negozio avrebbe chiuso. E questo è stato per me un dolore leggere questa cosa. E dunque ho deciso di rilevarla e di continuare a vendere musica, perché la musica è fondamentale per me. Io da bambino ho comprato qua il mio primo disco, dunque sono affezionato a questo posto. Vorrei continuare appunto il rapporto con cliente, venditore cliente, che per me è fondamentale, è diverso comprare un disco in un negozio o in internet. Ecco, allora abbiamo capito che è molto importante questo rapporto diretto e devo dire che anche la location storica sicuramente dà molto prestigio alla città per avere Pistelli e Bartolucci ancora operativo. Ma oggi per quello che riguarda il mercato dei dischi, chi è che si rivolge a voi? Chi è che compra vinile? Chi compra anche il CD ancora in un periodo in cui è tutto liquido, tutto digitale? Beh, c'è una grossa fetta del quarantenne, sessantenne che ha sempre comprato, tra cui ci sono anch'io in questa fascia, che continua a comprare soprattutto il vinile. E poi i giovani, è stata per me una gioia scoprire che anche i giovani stanno apprezzando il piacere di possedere il vinile, di aprirlo, di guardarlo, di collezionarlo. Ci sono tanti giovani dai 13 ai 18 anni che comprano i vinili, questa è stata una sorpresa anche per me. E poi, insomma, i regali di Natale, insomma, un pochino tutti gli altri contribuiscono, ecco. Però i giovani è stata una bella sorpresa. Ma i giovani comprano musica, tra virgolette, giovane o comprano i classici? Comprano la musica giovane, dunque il rap, il trap, tutta questa fascia qui, i nuovi artisti giovani che escono li comprano. E poi ci sono anche quelli invece che sono stati influenzati dai genitori. Dunque i genitori quarantenni, cinquantenni, che hanno dei ragazzini, hanno ereditato la passione dei genitori. Dunque anche loro comprano ancora i pinfloidi, i pinfloidi vendono ancora tantissimo, i pinfloidi qui in Le Zeppelin continuano a vendere anche tra i giovani. Ci troviamo appunto in una bottega storica. Che significato ha essere, diciamo, colui che porta avanti un'attività che è nata addirittura oltre un secolo fa? Sì, ha anche un certo peso, anche appunto la location di fronte al chiastello, dentro al teatro comunale, comunque ha il suo peso e ha il suo fascino. A me piace molto anche quando vengono turisti da fuori raccontare un po' la storia del negozio, ecco, che è un negozio più antico d'Italia, che vende musica. Questo mi riempie ancora più di orgoglio, ecco, per quello che sto facendo, ecco, anche insomma, niente di che, però insomma, sono felice.